Nicola Molteni, continua la raccolta di firme a Cantù per impedire la costruzione di una moschea? Assolutamente sì, questo fine settimana, il 26-27 di aprile, organizzeremo decine di gazebo per il referendum dei. Sarà una grande giornata dove contiamo di poter raccogliere migliaia di firme da parte dei cittadini canturini al fine di bloccare questa sciagurata ipotesi e questa sciagurata idea del sindaco e dell'amministrazione di Cantù. Non è solo una battaglia politica, non è una battaglia di partito, ma è una battaglia di civiltà. Noi diciamo che finché le confessioni religiose non cattoliche, ad esempio quella islamica, non sottoscriveranno fino a quando non sottoscriveranno le intese con lo Stato italiano e quindi finché non accetteranno principi, valori, regole della nostra Carta Costituzionale, del mondo e della cultura occidentale, non ci si può sedere al tavolo per concedere assolutamente nulla. Non è una battaglia religiosa, ma è una battaglia di civiltà. Io voglio ricordare che all'interno delle moschee si dice che si prega, ma nella stragrande maggioranza dei casi si coltiva odio e violenza e quindi la nostra è una battaglia che sosterremo attraverso un vero e proprio referendum. Chiederemo al popolo e ai cittadini canturini di votare e di esprimersi per il sì o per il no alla moschea. Grazie. Grazie. Grazie.